bentornati su my football jersey vediamo la versione player di una maglia del liverpool questa è la terza maglia ovviamente come avete visto in versione player la maglia di virgine vi ricordo che la versione player è quella che indossano i calciatori un po più spiancata più tecnica per concedere a loro le massime prestazioni maglia bellissima fatta molto bene il costo come al solito lo vedete qui sopra beh questo non ha bisogno di commenti se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione nella descrizione del video andate a vedere sul sito perché insieme a questa troverete tantissime maglie che vi attendono ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità se in futuro volete vedere altre recensioni come questa mi raccomando però iscrivetevi al canale per oggi è tutto alla prossima ciao 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 ciao